Ciao a tutte, oggi finalmente riesco a farvi la famosa review dei pannelli Sigma che vi avevo anticipato ancora qualche settimana fa ho voluto aspettare un po' di tempo prima di farvi appunto questo video perché volevo essere più sicura appunto della mia opinione vi parlerò in particolare del set, questo qui della Sigma, set travel, set viaggio appunto dei pannelli in formato mini e intanto vi mostro come mi sono stati recapitati, ossia vi arriva il set in questa bustina rosa molto carina dove all'interno trovate appunto il set di pennelli accompagnato da una brochure e una cartolina la brochure in particolare è questa, adesso ve la mostro, eccola qua questa qui dove all'interno è spiegato l'utilizzo di ogni singolo pennello penso che riusciate a vederlo, eccolo qua e c'è anche questa cartolina con le congratulazioni per l'acquisto dei pennelli dove praticamente vi spiega o bene o male vi dà un consiglio su come lavarli appunto consigliano di utilizzare o shampoo per bambini oppure comunque dei saponi delicati e niente, io ho voluto acquistare questa confezione, l'ho scelta rosa, tanto per cambiare il mio colore preferito, molto femminile dove all'interno appunto troviamo il set travel della Sigma, dei pennelli Sigma travel sono infatti in formato mini taglia ho voluto acquistarlo anche perché qua in Italia non c'è, chiamiamola la concezione dei set di pennelli con la custodia io ho sempre desiderato averla appunto perché anche quando li porto via in borsa preferisco non tenerli nella pochette insieme ai trucchi perché secondo me rimangono più sporchi comunque sono scomodi, insomma volevo una pochette adibita solamente appunto ai pennelli in più formato mini appunto per la borsa è molto comodo e non essendoci da nessuna parte qui in Italia ho dovuto per forza acquistarli via internet e niente, allora la confezione è molto carina, rosa in questa trousse in, penso che sia ecopelle, insomma non so adesso che materiale sia comunque rosa lucida, si chiude così con la calamita molto carina all'interno ci sono otto pennelli troviamo appunto il pennello da cipria o terra il pennello sintetico due fibre il pennello da blush il pennello per l'ombretto quello da correttore il pennello da sfumatura e il pennello a penna allora cosa dire innanzitutto per quanto riguarda la mia opinione la prima cosa che ho riscontrato appena arrivato non prendetemi a male ma la confezione puzzava in una maniera tremenda e anche i pennelli all'interno puzzava ossia aveva un odore sgradevolissimo di petrolio e anche appunto le setole di ogni singolo pennello e ho avuto molta difficoltà a togliere nel togliere appunto questo questo odore ci sono quasi riuscita dico quasi perché la confezione ancora ancora ma i pennelli all'interno posso dire che virino ancora appunto all'odore di petrolio io ho lavato la confezione sotto l'acqua tiepita ho usato del sapone di marsiglia e l'ho lasciata un paio di giorni all'aria aperta e sembrava che l'odore fosse scomparso in realtà dopo una giornata che l'ho appunto ritirato in casa l'odore prevaleva ritornava fuori praticamente allora l'ho rilavato un'altra volta l'ho rilasciato all'aria aperta e sembra vi ripeto che puzzi di meno nonostante si oddio non sa di sapone di marsiglia diciamo così però insomma non ha un odore sgradevole quanto prima dei pennelli cosa vi devo dire ho sentito varie recensioni su internet ho sentito recensioni positive ma anche negative e per quanto riguarda la mia opinione io li ho utilizzati parecchio per non dire che ho utilizzato solo questo set di pennelli in questo periodo l'unico che non ho utilizzato sono sincera è questo da correttore perché io non uso mai il pennello da correttore ossia uso le dita in questo momento tra l'altro sto utilizzando il correttore della Kiko se vi ricordate quello nella confezione tonda e lo picchietto sotto l'occhio semplicemente utilizzando le dita per cui ecco il pennello non l'ho proprio utilizzato per cui su questo non so dirvi nulla se non l'effetto che ha avuto dopo il lavaggio ossia che è rimasto perfetto non ha dato nessun tipo di problema per quanto riguarda gli altri pennelli posso dire che sono tutti buoni però allora tutti sono stati lavati più di una decina di volte questo in particolar modo ormai ho perso il conto di quante volte l'ho lavato e adesso vi spiegherò il perché allora per quanto riguarda il pennello a penna io non ne avevo uno diciamo proprio così appuntito se posso utilizzare questo gergo e mi trovo benissimo ho quello della Royal Beauty che vi avevo fatto vedere con cui mi trovo benissimo però non è appuntito come questo e diciamo che quando stendo l'ombretto nella zona vi dell'occhio questo è l'ideale va molto meglio rispetto all'altro per cui questo è buonissimo quando l'ho lavato appunto l'ho asciugato è rimasto uguale per cui niente da dire pennello da sfumatura buonissimo non ho niente da dire quello da correttore vi ripeto non l'ho mai utilizzato però non ha perso nessuna setola il pennello da ombretto che è questo è buonissimo anche questo qua vedete già appunto le setole sono perfettamente uguali a come sono arrivate e questo vi ripeto tutti pensano di aver rilevate almeno una decina di volte il pennello da blush a parte puzzare un po' di capretta se posso dire così va benissimo comunque questo ha perso qualche setola nei primi due o tre lavaggi poi più grazie a dio per cui niente da dire il pennello da cipri o da terra invece mi trovo bene non ho niente da dire neanche su questo pennello vedete che è bello folto è rimasto anche abbastanza cicciottino nonostante tutte le lavate che gli ho dato e nonostante gli metta sempre il capuccetto questo qua trasparente che vi dico che io prediligo sempre che sia presente quando acquisto dei pennelli però allora questo pennello ha perso setole un bel po' di setole e soprattutto ha perso colore per i primi posso dire 4-5 lavaggi addirittura colore e come quello famoso della Royal Beauty che vi avevo nominato tempo fa mi ha lasciato un po' così però negli ultimi lavaggi che ho eseguito tra l'altro l'ultimo ieri per fortuna le setole le continuo a perdere e su questo niente mi soffermo un attimo perché non penso sia al massimo però insomma le perde però il colore per fortuna quello no quello no per fortuna ha terminato di perderlo per cui a parte qualche setolina non ho niente da dire sono buone le setole stendo bene la terra o la cipria dipende da quello che uso giornalmente per cui è buono e su questo non ho altro da dire per quanto riguarda il duo fibre io su questo pennello posso dirvi che sia il peggior pennello che io abbia mai provato allora perde colore ma una cosa indecente praticamente adesso è pulito perché non vi dico quante volte che ho pulito ho rilavato la parte bianca col sapone ma ogni volta che io lo vado a lavare vi ripeto l'avrò fatto 15 volte per cui gli ho dato molte possibilità il colore nero della parte bassa si va a stendere su tutta la parte bianca che praticamente mi fa diventare il pennello tutto nero penso di stare sotto l'acqua anche 10-20 volte per non so quanti minuti infiniti lavandolo rilavandolo risciacquandolo tutto quello che volete ogni volta che io lo vado a lavare perde colore cioè io è quasi un mese che ho questi pennelli gli altri per fortuna soprattutto quello da cipria ha smesso di perdere colore questo no tuttora vi ripeto anche ieri avevo il lavandino nero e tutte le setole superiori nere completamente nere io l'ho usato anche per stendere il fondotinta liquido ed è una cosa orribile come quello della Kiko perde peli che è una cosa vergognosa per cui io su questo non voglio più dargli nessuna possibilità per quanto riguarda me non so se sia un caso singolo però per quanto mi riguarda è orribile cioè io lo cestinerei lo tengo perché con quello che ho pagato questo set travel non mi pare proprio il caso di cestinarlo però di sicuro non lo utilizzerò più perché sono stufa di lavarlo e ogni volta rilavare solamente la parte sopra con lo shampoo di mia figlia delicato per cui non è neanche che stia usando dei prodotti aggressivi per togliere appunto il nero che lascia le setole sottostanti per cui questo per quanto mi riguarda è un pennello orribile e basta per quanto riguarda la review dei pennelli sigma finalmente sono riuscita a farvela anche perché ultimamente il tempo che ho è molto è relativo in quanto sono sempre presissima con la bimba tutto sommato sono contenta comunque di averlo acquistato perché finalmente ho una pochette piccola da borsa con dei pennelli in mini taglia su quant'è che vi ho detto 8 2 4 7 pennelli scusatemi ho errato anche all'inizio su 7 pennelli 6 sono buoni e mi trovo bene però vi ripeto il duo fibre veramente da scartare mai più una cosa tremenda comunque niente spero di esservi stata utile vi ripeto io quando faccio le review spero di non ecco di non essere aggredita per quanto riguarda le mie opinioni spero di essere stata sfortunata io per quanto riguarda il duo fibre perché ho sentito delle altre recensioni in cui ne parlano come un pennello spettacolare io speravo di trovare finalmente un duo fibre da sostituire a quello della Kiko perché mi piacerebbe stendere appunto il fondotinta liquido con un pennello invece che sempre con la spugnetta però fino adesso sono stata sfortunata non riesco a trovare un pennello che vada bene per cui insomma speriamo nella prossima volta comunque niente spero vi ripeto di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video ciao